I bambini dell'industria musicale di Valle Crosia che hanno accompagnato Mr. Rain sul palco dell'Ariston con il brano Supereroi durante le serate della 73esima edizione del Festival di Saremo sono stati premiati dal comune di Valle Crosia e da Regione Liguria. Sono contento di essere qua rappresentando anche il presidente Giovanni Totti per dare un riconoscimento a questi piccoli straordinari eroi che si sono cimentati sul palco dell'Ariston e hanno vissuto un'esperienza sicuramente per loro unica e straordinaria ma allo stesso tempo hanno portato un po' di Liguria sul palco dell'Ariston rendendosi simpatici, rendendosi molto graditi a tutti gli ascoltatori. Quindi mi fa piacere essere qua stasera e portare un piccolo omaggio di Regione Liguria, un piccolo grazie a nome di tutti i Liguri. Sicuramente si realizza quella che era la nostra prospettiva, portare Valle Crosia un po' fuori da quelle che sono i confini e grazie appunto a questa rappresentazione che c'è stata al Festival di Saremo Valle Crosia è conosciuta. I bambini appartengono diciamo alla scuola di musica, delle industrie musicali e quindi automaticamente anche la scuola viene portata diciamo fuori dai confini. Abbiamo bisogno appunto che ci siano associazioni, scuole che danno l'opportunità di canto, l'opportunità di ballo e Valle Crosia è altamente rappresentata. Qui vicino, mi trovo nella sede della scuola, qui vicino c'è anche la scuola degli Urban Theory per cui si sono allineati praticamente, sono vicini di casa. I bambini sono stati una sorpresa per tutti noi perché l'hanno tenuto segreto a tutti, per cui quando li abbiamo visti sul palco e siamo riusciti a capire che erano della scuola musicale di Valle Crosia siamo rimasti tutti sorpresi, per cui ringraziamo veramente chi ha avuto questa idea, chi ha creduto in questo progetto. Ringrazio Alessio Benedetto che è stato il mio primo contatto con questa scuola e che sono riusciti a creare in così poco tempo una realtà che può diventare un domani una professione per i ragazzi. Per cui li ringrazio vivamente, questa testimonianza che daremo oggi è un ringraziamento a nome del Comune di Valle Crosia. Beh, possiamo dire che è stata un'avventura, come dire, una grande avventura, un'impresa. Quando si dice impresa, in termini più azienda è proprio una vera impresa, ogni progetto è un'impresa. Questa è stata una grande impresa che ha coinvolto tutto lo staff della scuola, infatti è stata una prova di professionalità. Di questo ne siamo molto orgogliosi perché tutti, proprio tutti quelli che hanno partecipato al progetto hanno fatto una piccola parte ma è stata straimportante perché, come dire, è stato un mese molto condensato, molto frenetico, dove bisogna essere in queste attività molto reattivi e dinamici perché, come dire, lavorare con dei colossi come la RAI implica reattività perché loro sono grandissimi. Noi magari ci immaginiamo chissà che cosa, poi in realtà bisogna essere molto pronti a rispondere alle loro esigenze. Anche i ragazzi si sono comportati molto molto bene perché, per quanto piccolini e, come dire, ancora sono bambini comunque, per loro è stato un gran bel gioco. Sicuramente hanno dato una prova di essere dei bambini genuini. Hanno portato la loro freschezza sul palco e questo penso sia stato molto apprezzato. Però quando c'era comunque da rimanere seri e lavorare non hanno mancato l'appuntamento, sono stati molto bravi e questo ci rende ancora più orgogliosi. Poi è stato un mese che è partito, come molte cose, da un contatto, no? Quindi è un'avventura che le cose, come dire, da cosa nasce cosa, è nato un contatto così, è arrivata la loro richiesta. Non siamo stati neanche gli unici a essere contattati, però siamo gli unici che, come dire, l'hanno spuntato siamo riusciti a dare, in questo caso, alla Warner con cui abbiamo lavorato, quello che chiedevano per Mr. Rain. Dopodiché i ragazzi si sono messi al lavoro insieme agli insegnanti, Laura Serrecchia, Marta Neviani, che li hanno preparati per registrare perché subito non era prevista questa cosa qua, è una cosa che poi è nata in corso d'opera, no? Come tutte le cose ci sono dei cambiamenti, no? Che avvengono strada facendo. Li hanno preparati, abbiamo coinvolto i nostri colleghi dello studio Rosenhaus, Alessio Senis e Andy Senis che hanno seguito tutta la parte di produzione. Poi abbiamo spedito tutte le registrazioni che poi sono quelle che avete sentito durante le dirette dell'Ariston mentre ovviamente le registrazioni dell'album sono una cosa a parte. Questo per far sentire anche i ragazzi più a casa. Ovviamente per motivi tecnici di diretta non era possibile cantare tutte le sere in diretta con i ragazzi e di conseguenza è stato scelto di farli registrare. Però perlomeno c'erano le loro voci sul palco e questo sicuramente li ha aiutati a sentirsi un po' più a casa in un contesto così un po' frenetico, nuovo, bellissimo, stressantissimo anche per loro, per noi anche. Enorme. E quindi è stata un'avventura così. Poi abbiamo avuto l'occasione di lavorare con Mr. Rain che ribadiamo tutte le volte è un artista umilissimo, bravissimo, si è comportato benissimo, tutto lo staff si è comportato bene con i ragazzi e questa comunque è una cosa importante perché come dire in un ambiente così alto comunque a livello italiano forse il più alto che c'è, la manifestazione più importante dove ci sono comunque anche gli artisti più importanti sono abituati a lavorare con quegli artisti con quel livello. Quando ti trovi otto bambini che partono dai 5 agli 11 anni le cose cambiano un po', il gioco cambia un po', le dinamiche lavorative sono diverse, proprio come dire un'economia umana, un management umano cambia completamente però sono stati tutti molto bravi, si sono ricordati che sono stati bambini anche loro nei momenti in cui è servito e Mattia in primis è bravissimo, anzi penso che come ha già detto anche lui ha approfittato di questa energia dei ragazzi per caricarsi anche lui, per staccare un po' dall'ansia che magari noi adulti abbiamo perché poi il bambino magari vede le cose sicuramente in un'ottica diversa che gli aiuta molto anche ad affrontare queste bellissime esperienze che ti porteranno dietro tutta la vita poi abbiamo avuto modo di lavorare con lui a casa sua in villa, andavamo sempre lì a prepararci tutte le sere prima di andare all'Ariston, quindi le costumiste hanno fatto un gran lavoro con i ragazzi, li preparavano, li seguivano noi delegavamo un attimo i compiti in quel momento lì, poi si partiva, si andava all'Ariston che non pensate che sia tutta quella tranquillità, anzi, una volta che si entra all'Ariston una gabbia frenetica e non solo, sorprese tipo dell'ultimo minuto, convocazioni alle 8 e 40, poi messaggi di cambi di programma alle 8 e 30, soprattutto tu ne sai qualcosa ok, va bene così, quindi dobbiamo rivedere completamente tutto e via, e si fa, però si fa, giustamente allora Aceb è nato per un altro bando di un nostro progetto che si chiama Industria Musicali Band che è scollegato un po' dal coro, però abbiamo messo insieme le cose, è stato molto bello anche per i ragazzi partecipare e prendersi dei belli applausi genuini di tutta la sala che li voleva e li ha desiderati e questo comunque ci fa piacere che un'associazione abbia creduto ancora prima che succedesse questa cosa del festival in un progetto analogo che coinvolge i ragazzi poi oggi che dire, sicuramente coroniamo e ci fa molto piacere che anche chi non appartiene direttamente all'ambito culturale, però fa parte del mondo politico abbia apprezzato il nostro lavoro e l'impegno dei ragazzi in un contesto così alto siamo contenti che ci hanno preso un po' come portabandiera della Liguria al festival e siamo contenti anche per la nostra realtà che è giovane, ha 4 anni apparteniamo al circuito MMI nazionale e vogliamo fare sempre meglio quindi avere questi riconoscimenti sicuramente aiuta l'autostima a rafforzare un progetto che ci auguriamo duri anni e anni e anni io posso aggiungere magari qualche dettaglio sul progetto di Industrie Musicali Band che comunque appunto, come diceva Alessio, è un progetto parallelo ma molto bello perché comunque coinvolge tutti i ragazzi in giovane età nel realizzare quello che può essere anche un piccolo sogno, cioè di avere una band, di iniziare a suonare insieme e magari appunto portando avanti questa passione, chi lo sa, può diventare un lavoro perché per molti per noi lo è diventato e noi ci auguriamo che a loro volta questi ragazzi partendo da un laboratorio come questo invece possano capire e trovare veramente la loro strada attraverso questo progetto che è molto formativo ed è molto pratico perché poi il progetto li porterà a suonare realmente sul territorio inizialmente provinciale ma ci auguriamo che magari questa cosa faccia un po' di eco e ci dia spazio per andare anche un po' fuori dal nostro solito territorio, questo è un obiettivo che ci poniamo una cosa nuova avere dei ragazzini che suonano e animano le serate delle solite band, cover band che comunque per carità fanno parte assolutamente della scena musicale attuale però come dire, sorprende avere dei ragazzini giovani che ci provano e calcano i palchi e creano risultati grandiosi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti